Entra nel vivo la progettazione della nuova piazza Cavour. Dopo la fase di partecipazione popolare durante la quale sono state raccolte valutazioni, suggerimenti e idee fornite dai cittadini, si è svolta oggi la seduta pubblica durante la quale sono state comunicate le 5 idee progettuali sulle 13 in concorso per la riqualificazione architettonica, impiantistica e commerciale di piazza Cavour. Le 5 idee selezionate potranno così accedere alla seconda e conclusiva fase. Per la realizzazione dell'opera infatti è stato scelto il concorso di progettazione articolato in due gradi. Nel primo grado quell'odierno i concorrenti hanno dovuto presentare un'idea progettuale che nel rispetto dei costi e delle prestazioni richieste ha permesso alla commissione giudicatrice di valutare le migliori 5 idee progettuali da ammettere al secondo grado secondo i criteri stabiliti dal bando. Successivamente il seggio di gara ha verificato le documentazioni amministrative e proceduto all'abbinamento delle idee con i progettisti. Sono stati quindi proclamati 5 progettisti che saranno invitati a presentare un'ulteriore documentazione entro 30 giorni unitamente al progetto di fattibilità. Le 5 idee selezionate per la seconda fase sono state presentate oggi nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Civico dal sindaco Pierluigi Peracchini, dall'assessore alla partecipazione Luca Piaggi, dal direttore del dipartimento Rosanna Ghirri e dall'ingegner Gianluca Rinaldi. Il vincitore del concorso riceverà un premio di 10.000 euro, il secondo classificato di 7.000 e il terzo, il quarto e quinto di 5.000 euro ciascuno.